Il quartiere Libertà di Bari celebra la seconda edizione di Red Fest Redentore, con una intera settimana dedicata allo stare insieme e al fare comunità. L'evento in un luogo simbolo del quartiere, Piazza Redentore, e gli appuntamenti proseguiranno fino al 24 maggio, con letture e incontri, tavole rotonde, momenti ludici, spettacolo e confronto sul tema della legalità. Tutto firmato dal Redentore Salesiani Don Bosco, Arcidiocesi di Bari Bitonto e Comune, e che coinvolge direttamente l'Istituto Salesiano del Redentore, la Biblioteca di quartiere Don Bosco e la Piazza. Fra gli eventi di questa settimana una veglia e una messa votiva del Beato Rosario Livatino, il giudice siciliano ucciso giovanissimo dalla mafia, beatificato nel maggio del 2021 e del quale sarà presente a Bari una reliquia. La manifestazione, realizzata in collaborazione con le realtà associative del territorio e con le scuole cittadine, è curata dal gruppo di coordinamento dell'opera salesiana, guidato da Don Pasquale Martino. Il Festival dell'Educazione nasce come tappa finale di un progetto di Salesiani per il sociale. La prima edizione è avvenuta l'anno scorso, è stata un'esperienza pilota, una sperimentazione, è andata bene. Abbiamo pensato di riproporla quest'anno ampliando il partenariato. Quest'anno il Festival si incastona nel panorama più ampio del Redfest, una settimana di festeggiamenti qui all'Istituto Salesiano del Redentore. Quest'anno sono presenti più di 25 associazioni. Ogni associazione ha il compito di proporre una piccola esperienza educativa. Il senso è quello di un'educazione di qualità che si apre al territorio, che scende in piazza. È una festa sicuramente per noi, per la cittadinanza. È una grande festa per noi operatori, per noi Redentore, che invidiamo gli amici a stare con noi e a impegnarsi per un pomeriggio. Grazie.